Un dipendente del Comune di Palermo addetto al servizio tributi è indiziato per i reati di frodo informatica e accesso abusivo ad un sistema informatico, questo quanto scoperto dalle indagini eseguite dagli specialisti del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo. Il gruppo tutela, mercato, beni e servizi, che attraverso intercettazioni telefoniche e servizi di osservazione delle condotte del dipendente avrebbero riscontrato anomalie nella registrazione di versamenti e pagamenti mai avvenuti di tributi locali, nella riduzione di importi dovuti e nello storno di pagamenti da un contribuente all'altro, con la mancanza di documenti che potessero giustificare le operazioni in questione. Dalle indagini le fiamme gialle avrebbero quindi riscontrato un rilevante numero di accessi abusivi al sistema informatico del Comune che sarebbero stati effettuati, secondo gli inquirenti, per ridurre o annullare i moettari di familiari e conoscenti del dipendente comunale attualmente indagato. Non lo avrebbe fatto desistere neppure un procedimento disciplinare con cui è stato precedentemente trasferito in un altro ufficio. Il dipendente avrebbe continuato comunque ad attuare la condotta illecita. Le indagini sono partite da una segnalazione arrivata dal Comune di Palermo proprio per le operazioni anomale che qualcuno avrebbe effettuato sulla banca dati Sige Fluendo, utilizzata per la gestione dei pagamenti dei tributi locali, quindi Imo e Tari. Così i finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale emessa dal GIP del Tribunale del Capoluogo su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti del dipendente comunale destinatario della misura interdittiva della sospensione dell'esercizio del pubblico ufficio per la durata di un anno. Il provvedimento in parole è stato emesso in base agli elementi probatori acquisiti in fase di indagine preliminare. Si attende ora l'esito del giudizio definitivo.